Benvenuti a questo nuovo appuntamento sulle idee fotografiche, idee fotografiche creative per realizzare immagini particolari, per divertirsi, per ottenere qualche cosa di insolito utilizzando accessori che non ci rovinano. Pochi ingredienti per ottenere immagini che possono far soffermare lo sguardo, quindi qualche oggetto che possiamo trovare in casa di piccole dimensioni, un filo di nylon che può essere quello da pesca, una scopa per sorreggere questo impianto e poi utilizzando la luce di una finestra, se non abbiamo luci da studio, se non abbiamo luci particolari, la luce laterale di una finestra può essere sufficiente delle fotografie con tipi di scatto lenti mentre facciamo ruotare questi soggetti. Quindi vediamo nelle immagini che stanno scorrendo che cosa ho fatto per ottenere quello che poi vediamo ed è un gioco molto interessante, molto divertente perché quelli che sono inizialmente degli oggetti che riconosciamo diventano irriconoscibili e molto particolari con queste rotazioni. Quindi utilizzando vari tempi di scatto lenti, naturalmente devono essere tempi di scatto lenti per poter non congelare il movimento e faremo delle prove, quindi faremo ruotare più velocemente, più lentamente, proveremo dei tempi di scatto un po' più lenti e un po' più veloci per trovare le soluzioni che sono più accattivanti. Quindi non ci resta che andare a caccia, giro per la casa per cercare piccole cose che possono essere attaccate a un filo di nylon e iniziare con uno sfondo, magari un semplice cartoncino colorato che possa accostarsi e che possa fare contrasto, che possa essere in sintonia con i nostri soggetti, iniziamo a farli girare, mettiamo a fuoco prima di questa operazione in modo che il fuoco sia sul soggetto e non vada a finire sullo sfondo e vediamo che cosa riusciamo a inventarci. Se ne avete voglia, scrivete un commento come al solito, ricordatevi di guardare i miei contenuti, le mie novità sono tutte linkate nella descrizione sotto il video, potete vedere anche gli altri episodi sulle idee fotografiche che cominciano a essere consistenti e danno diversi spunti per migliorarsi, per divertirsi, per ottenere immagini creative. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima!